Allora ragazzi, io penso che se una persona intelligente a un certo punto dovrebbe capire, a un certo punto quando inizia a capire che le cose non vanno come devono andare, deve anche capire che bisogna cambiare qualcosa, bisogna cambiare qualcosa, bisogna cambiare qualcosa perché altrimenti non si va avanti, si rimane lì, in quel livello. E abbiamo un Bologna che ha fatto in 11 o 12 partite, non ricordo 11 se non sbaglio, 9 gol, 9 gol, cioè ha fatto più partite che gol. Il gol sta diventando un problema, e adesso parliamo anche perché ieri dopo la fine della partita stavo un po' incazzato, stavo davvero nervoso, ma non tanto per la sconfitta ragazzi, perché la sconfitta ci può stare, vai a giocare con una squadra di premier, fuori casa, una squadra che comunque vince, le partite le sta vincendo, ricordo che ha vinto anche con il Bayern Monaco, però non è tanto la sconfitta, è il modo in cui arriva la sconfitta, che a me dà fastidio, dà fastidio, dà fastidio, ora ne parliamo, ne parliamo. Allora, ok, la formazione che vi ho letto ieri, che ho ancora segnata qui, mi sembrava strana, troppo strana, mettere Orzolini, Odgaard, tutti quei calciatori offensivi, era troppo strana. Certo, Olm per Porsche ci poteva stare, ma io no? Dico una cosa, mi sono lamentato tanto, e ora per favore fatemi sfogare un attimo, perché altrimenti non me ne esco più da questo limbo, perché poi io cerco di non abbassare l'asticella del morale, faccio di tutto per non farlo, però poi a volte non ci riesco, non ci riesco. Ho passato un'estate a dire che questo mercato non era all'altezza della situazione, e un attimo, e mi riferivo alla Champions, perché nel campionato non pensavo si vedesse questo Bologna qui, mi riferivo più alla Champions, perché? Perché io ci credevo, non ci credevo, io pensavo, ho un saputo che adesso i soldi a Sartori, con i soldi che al Bologna stanno entrando, sono entrati l'anno scorso e stanno entrando quest'anno, grazie alla Champions, grazie agli sponsor, grazie alla TV, il Bologna sta pieno di... Voi pensate, una squadra come il Lecce ha preso, ha incassato da TV, abbonamenti, sponsor, cessioni, ha incassato 70-80 milioni, il Lecce, il Bologna, stiamo parlando del doppio, del doppio stiamo parlando, dove stanno questi soldi? Dove stanno questi soldi? C'era un piano di rientro, saputo voleva rientrare di tutti i soldi, ma io me ne frego, me ne frego, avevamo la possibilità di goderci una Champions, oltre che avevamo la possibilità di dare continuità al campionato, ma avevamo la possibilità di goderci una Champions, i soldi c'erano, i soldi c'erano, io di saputo me ne frego, saputo doveva cacciare i soldi, doveva dare a Sartori la possibilità di mettere su una squadra decente, perché questa è una squadra sufficiente per me, sufficiente, è una squadra sufficiente per salvarsi tranquillamente in Serie A, per arrivare a metà classifica e fare, vogliamo essere il Torino, vogliamo essere il Torino della situazione? Va benissimo, va benissimo così, la Champions la vogliamo rivedere fra 60 anni? Allora va bene così, va bene così, però io l'anno scorso su Saputo ci credevo, io pensavo che Saputo voltasse pagina a questa città, a una città che merita un qualcosa in più, merita un qualcosa in più, me ne frego del piano di rientro io di Saputo, e questo, come ho detto nei mesi estivi, durante il mercato, quando me ne stavo andando di testa, i soldi che cacciava dovevano essere un investimento, non dovevano essere soldi buttati a fondo perduto, dovevano essere un investimento, bisognava mettere i soldi, bisognava investire, bisognava mettere su una squadra forte, una squadra forte, una squadra che desse continuità al campionato, desse continuità ai risultati ottenuti lo scorso anno, e una squadra che facesse bella figura in Champions League. Quello che ho visto ieri, ragazzi, è stato qualcosa di, per me è travolgente proprio, io non me l'aspetto in certe partite, non me l'aspetto. L'italiano deve capire che se qualcosa non funziona bisogna cambiare, io se sto perdendo 1-0, 2-0, e mi togli Dallinga e mi metti Castro, per me non hai capito niente, non hai capito niente, va bene, vuoi cambiare, vuoi dare una sterzata alla partita, metti Castro e lasci Dallinga, e lasci Dallinga, perché questi allenatori oggi non riescono a giocare con due punte, mi spiegate? Allora io ho sempre difeso italiano, sempre l'ho difeso italiano, ma ancora oggi lo considero un buon allenatore per quello che ho visto fare nella sua carriera, con lo Spezia, con la Fiorentina, e comunque con la Fiorentina è arrivato in finale due volte, se non sbaglio, no, due volte, in Europa. Quindi non è che un allenatore che non ci sa fare, è un allenatore che ci sa fare, ma quando le cose vanno bene, allora ti basi sul tuo schema, sulla tua tattica, sulla tua filosofia di gioco, è ok, ma quando le cose vanno male, devi saper cambiare, devi saper cambiare, non puoi essere con i paraocchi, non possiamo essere noi tifosi ad accorgerci che ci sono delle cose che non vanno a livello tattico, a livello tattico ci sono cose che non vanno, ci sono cose che ci stanno danneggiando, ci stanno danneggiando, scusate lo sfogo ragazzi, però io poi, quando vedo che non si trovano soluzioni a dei problemi, allora poi inizio a innervosirmi, sapete, io sono uno che è molto tranquillo, molto sereno, cerca di non distruggere un ambiente che già sta, diciamo, con l'umore basso, cerco di, cerco di mettere un po' di allegria, di tirare un po' sul morale, di dire dai ragazzi, mo' ce ne usciamo, l'ho sempre fatto, avete visto, però poi a un certo punto la pazienza finisce, quando ieri ho visto i cambi, già quando ho visto la partita e vedevo quel d'allinga, cioè ragazzi dai, ha fatto due tiri in porta, che se li fa mio nipote di 5 anni tira più forte, cioè ma di cosa stiamo parlando, ma oltre a questo, stai perdendo, metti Castro e lascia d'allinga, lascia d'allinga, Orsolini, dove sta Orsolini dell'anno scorso, mi spiegate dove sta Orsolini dell'anno scorso, voglio sapere dove sta Orsolini dell'anno scorso, per favore, fatemi sapere, è il cambio di allenatore che lo ha danneggiato e lo sta facendo giocare a questi livelli, non lo so, non lo so, io ieri ho visto un grande scoluspi, ha salvato due volte, se non tre, però due volte sicure, prima dell'1-0 dell'Aston Villa, due volte sicure, ma anche tre parate ha fatto, però due belle, e poi sul 2-0 ha evitato il 3-0, la figuraccia finale, poi ho visto un Bukema forte, forte, perché Bukema ragazzi è forte, diciamolo apertamente, Bukema è forte, e ho visto un Lukumi in difficoltà, il 2-0 è anche un po' colpa sua, e Posh sta indietro, invece di andare avanti sta andando indietro, Lico Giannis ha giocato bene, Fabian aveva la palla dell'1-0, non l'ha sfruttata, Froyler ha giocato benissimo, da quando ha preso l'ammunizione è sparito Froyler, Urbowski, anche Urbowski non mi è dispiaciuto, non mi è dispiaciuto per niente, Endoyer non mi è dispiaciuto, ma ragazzi, Dalinga e Orsolini stanno diventando un problema, stanno diventando un problema, fai giocare sempre Castro per favore, perché almeno con Castro qualcosa in più, la vediamo, poi non si fanno i gol, va bene, ma almeno qualche cosa in più la vediamo, saputo, è tutta colpa tua.